Non potevano che essere le colline del Prosecco, patrimonio mondiale Unesco, la prima tappa del viaggio di Lale Marcasse e Ivo Gallo. La Zanzega torna sugli schermi di Antenna 3 domani alle 21.15, appuntamento da non perdere. Andremo a conoscere le bellezze, gli angoli più suggestivi, i luoghi evocativi, le storie e le eccellenze agroalimentari dei territori tra i comuni di Tarzo e Vittorio Veneto. La puntata inizierà dai colli di Arfanta dove all'interno della parrocchiale è custodita una preziosa pala rinascimentale di Francesco da Milano, poi nell'antico borgo di Fratta, impreziosito dalla via dei murales per poi proseguire lungo le sponde dei laghi di San Giorgio e Santa Maria che ancora riflettano la luce lussureggiante dei boschi circostanti. Luoghi pieni di natura e fascino che hanno emozionato il grande poeta Andrea Zanzotto. I sapori terzesi verranno raccontati invece all'interno dell'albergo Aipini dove da oltre 100 anni continua la tradizione della famiglia della fietà. Ma questo è solo un assaggio di quello che Lele Marcassa e Ivo Gallo vi faranno scoprire. Tra musei, ville e tradizioni ogni giovedì alle 21 e 15 scopriremo le bellezze del nordeste.